Ciao, noi siamo Enova e siamo felicissimi di partecipare alla terza edizione del Sanremo Christian Music Festival dove presenteremo il nostro singolo Tu Verrai e anzi come vedete siamo proprio sul set dove stiamo registrando il nostro videoclip ufficiale. Ci vediamo su a Sanremo, un caro saluto a tutti. Ciao!